spettacolo ragazzi allora oggi l'andrea mi ha convinto a fare spinning giornata spinning andremo a isola bella e andremo a pescare a spinning nel lago no kill grande a cercare le trote big perché sembra che ci siano solo trote big quindi poi le prendiamo speriamo di vedere qualche cosa non è la mia tecnica però proviamo ci proviamo a tra poco ci arrivati isola bella spinning day anche ciso a canna già pronta molti con già pronto ancora prima dell'andrea adesso ci muoveremo andremo nel lago più grande gireremo e vediamo un po se riusciamo a fare una cattura iniziamo acqua spettacolare guardate l'acqua trasparente andiamo a insediare le bighe e oggi sarà delle ricerche hai vista una? orchè a rischio che movimenti li vedi bene, devo provare, devo provare il pesce, che comunque è grande, adesso ho messo quell'arancione super ciso, c'è un bus, anche bello, spettacolo, tag, guardate che bus, è venuto da sotto, grande ciso, super basso, dai! grande, ho preso, ho preso, ho preso, ho preso, ho preso, grande ciso, non ho sempre intenzione, spettacolo, no! grande, grande ciso, la big! iniziale con la spugna, ho proprio visto, vediamo il tuo artificiale arrivare, da qua la vediamo dietro, io lo stavo neanche più cagando, io lo stavo neanche più cagando, lo stavo neanche più cagando, ok! l'obiettivo della giornata, grazie a tiso, raggiunto, la big! prese! l'hai visto? eh, aspettiamo! cattura! no, è qua! andando di lì! ehi, vieni di qua, andare di là a rompere! è arrivata lì! puoi andarla con il guardino! vieni avanti! sento che ho preso il ramo dentro lì! hai visto? e ne sono andate in mezzo! questo va di tutto la base! esatto! e voilà! e va scappottato anch'io, con la big! ma che bella! questa qua era bella più, più reattiva! questa è più pinnata, c'è proprio la pinna fatta bene! magari dentro da un po' mettendo dentro! un po' più più! qua dentro! e liberiamo anche questa! prendo un po' di ossigeno avanti indietro! si riprende! si riprende! eccola qua! questa vengo di qui! eccola qua! ma che bella! ma che bella! spettacolo! aspettaò andando! Grazie per la visione!